bravo, mi raccomando, bravo Cristian, il piede di copertura è sempre l'esterno, vai Lore, bravo, vai di là, dammela a me Lore, vai di là, non scendere sul ginocchio Lorenzo, vai, c'è le scarpe più grande Lore, che hai fatto? Eh sì, vai Andrea, vai l'altro piede, va bene lo stesso, sei piccolino, vai, sì, ok.